Hi people, benvenuti, è quello da Spade che parla, siamo qui su un nuovo video, oggi siamo qui su Neuro Automata, demo, del gioco che uscirà il marzo 2017, mi pare il 7 marzo, e non ho idea di che cosa parla, siamo qui e lo proviamo. normale, e avviamo il gioco, perfetto. Discesa da 1243, data 10 marzo con 10.145, vabbè, normale, una data bellissima, l'opettivo di istruzione di una classe di Goliath, già il nome di Goliath fa cose di enorme. no, vabbè, insomma, vediamo con Mario, si ma stai calmo, stai calmo, tanto è interessante che il gioco sia in italiano, anche se è una demo, wow. Ok, il gioco, presumo che me lo comprerò, perché è il mio genere di gioco. Ok, va bene, va bene, fa il fuoco? Oh, ecco, quello che cercavo. Perfetto. Ok, perfetto. Tutto quello che devo cercare. Oh. Ah, ok. Muori. Ah, ok. Oh, bellissimo. Stupendo. È, 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 il gioco è stupendo. Ok, 30G. Ok. 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 Corri di continuo, va bene, perfetto. Va bene. Devo sparare? Potremmo giustamente potre sparare. Ok, adesso lo assumo. Ok, non so capito. Ecco mi rallenta. Va bene. Bellissimo. Stupendo. Stupendo. Stupendo questo gioco lo tolo. Stupendo. Il gioco è stato ripetuto. Non lo più. È una maglietta. E' la madonna. Tessunale. Non lo so. Stupendo. Questo enemigo è non relato. Proposal, dispensare a questo modo possibile. Non lo dice. Perfetto, giugiamo un altro po'? Perfetto, giugno! Perfetto, giugno! Perfetto, giugno! Aia! Però mi ha protetto! Ok... Buono sto colpo! Buono! Perfetto! Non c'è qualcosa così da God of War! E lei è fighissima! Ma sono tutti albini qua? Oh! Tu sei 2B, certo? Mi nome è 9S. Sono qui per aiutare il supporto. Ah! 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 Sì, quindi dovremmo trovare il target, eh? Ho una unità di flight, quindi vedrò un'arco nel perimetro. Ok, lavorerò la mia way inside. Va bene. Quindi c'ha pure delle parti platform. Va bene. Tanto per sapere... Ah! Carino. Molto carino. ok Vieni qua come faccio? Ah, ok. Oh, sì. No, ci provare. Oh. Figo! Molto figo. Ah, quindi si aggrappa. Ok. Certo, ho una grafica strana, perché due corpi d'energia... Immaginavo. Ah, boom. Perfetto, però non c'è modo per recuperare energia. Wow. 2B? Eh, ma'am? Cosa è? Stavo chiesto i dati di mappa che ho collezionato prima. Facciamolo. Ok, abbiamo una mappa ora. Perfetto. Presumo che quello lì sia il nostro obiettivo. Ok. Va bene. Così corriamo. Stile proprio... Bello stile. Cambia pure il pazzo degli attacchi. Perfetto. Ok. Ripupero, salute. Perfetto. Noi dobbiamo fare un salute. 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 Perfetto. Perfetto. Ritorno in 3D. Ropacalla. Oddio Non me ne ero accorto Questo è meglio combattere con mi Che non ho capito se è infinito Presumo che se è infinito Nella versione Damn Presumo Ah se potete tornare di voi? Non c'è un canile più grosso No Vorrei perdere troppo tempo Meglio che gli sparo Con tutto l'è Non c'è sul blocco attivata Sì Ok Bene perfetto Pensavo che siccome mi stavo divertendo così tanto Era passato talmente tanto Invece Loro ti possono messo ma anche evitare Ok certo E' diventato più difficile Ok 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 This place sure is big Wow I guess humans used to use it as a weapons factory But now it's just crawling with machines The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production So if we don't destroy it, they'll just keep coming I'll also 3 Of course We can hope to keep their enable I will But the system Let's just have ahm Because of which You know Oh when savoir I can remember Oh I can remember SID You know You know ientes The game Interesting Wow! Non lo so! Chissà! No! Mmm! Di qua! Ah, SWAT è arrivata! Buongiorno! Boom! Shakalaka! Oho! Aia! Bellissimo! Bellissimo! Oh! Oh! Sto a fumentare troppo! Arcanoid! Oh! Arcanoid! Oh! 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 C'è lì? Uccelli? Sì, ci sono più planti e animali qui che avevano avuto. Probabilmente perché l'environmento ha cambiato. Sì. 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 No. Sì. 3-1 non mi metà l'Empire. Ah non, due due. Due eh. No risposta per comunicazioni lungo. Non importa, prendo solo un minuto. ... ... ... ... ... ... Saga, metà un'altra di più Saga, che Oh, chami saga Ok 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 Mamma mia Devo ancora capire come funziona Ah quindi i recuperi vengono usati in automatico? Wow Guardate sto zitto però E' alquanto difficile Ah Vabbè E' finito? Target enemy detected Ah E' trasformer E' un E' un E' un E' un E' un Mi ricorda molto il re di ferro Attenzione eh ragazzi Mi ricorda molto E' un Aia, aia No, io faccio niente No, io faccio No, io faccio niente No, io faccio niente Ah, cambiamo Corri, corri No, io faccio niente Au Quanta vita Ma quanta? E non mi faccio niente Buono Buono Molto buono Si è spento Mi sa che si è incazzato No, non mi faccio niente No, non mi faccio niente Mi faccio niente E' pieno via via molto atletica però molto molto ecco 9S quindi siamo tutti automati ecco un nuovo livello livello 4 ecco facendo il livello 4 adesso ci abbia questa attività ho originato la vita sto perdendo come un cretino ho bisogno di aiutare 9S 10S devo riparare 10S 10S 11S 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 12S 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 chiedendo un avvicinamento per favore Wow Faccio già più danno, però... Madonna! ...dia essere il controllo del oppo del giusto. Puoi essere potuto essere potuto... ...dia essere potuto da... ...dia essere potuto. ...dia mi raccomandarsi al giusto! Come posso attacare l'attaccato? Ah. Ma che? Ma tu dove c'è tuo problema? Oh oh! Non muo di! Ma quanta ignoranza! Ma tipo quanta ignoranza! No! 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 No!